Ospitalità e integrazione, questo l'incontro di oggi qui alla Sala Polivalente di Sant'Agostino. Di che cosa si parlerà? Allora, così il pretesto, diciamo lo spunto, è proprio l'uscita di questa collana di libri delle edizioni Messaggero di Padova, di cui oggi c'è il libro di riferimento che si intitola proprio L'ospitalità di Abramo. Perché sono interessanti? Perché è una collana interreligiosa tradotta in italiano e in arabo, dove quindi intervengono un rappresentante per ogni religione e un laico su un tema specifico che in quel caso è un versetto della Bibbia che parla proprio dell'ospitalità nell'esempio del profeta Abramo e oggi cercheremo di declinarla rispetto alle esigenze dell'attualità che poi qui a Ventimiglia sono anche, ma non solo, però immagino in maniera predominante anche l'accoglienza dei migranti e dei rifugiati, delle persone che comunque si trovano a vivere un percorso di vita in questo momento più travagliato di altre, che è anche una ricchezza di esperienze, di vissuto, anche di coraggio di vivere e per noi ospitalità vuol dire anche saper vedere e saper imparare qualcosa da questo coraggio e da questa esperienza di vita. Quindi oggi cerchiamo di far vedere, far trasparire anche la ricchezza che possono portare persone nuove che non devono essere viste principalmente come un problema ma proprio come un incontro con l'altro che è uno specchio dell'incontro con Dio. Come Coreis avete partecipato insieme alla Caritas a qualche, diciamo così, in qualche occasione per aiutare queste persone o è la prima volta che vi incontrate con la Caritas in questa occasione? Allora con la Caritas abbiamo avuto diversi, diversa occasione di scambio, di collaborazione soprattutto qua in Liguria, anche in via non formalizzata ma ci si conosce da anni e in tutta Italia collaboriamo, anche a Milano abbiamo avuto occasione di incontrarci con la Caritas Ambrosiana per scambi proprio di approfondimento intellettuale dove ognuno porta il suo apporto ed esperienza come cerchiamo di fare oggi.